Benvenuti su Ultimora Gossip TV, prima di iniziare ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato. Un gesto semplice, ma per noi significativo, grazie. Dopo la conclusione del grande fratello, Rosie ha mantenuto un profondo silenzio. Non una parola è stata spesa sulla vittoria di Perla o sul suo stesso percorso nella dimora televisiva più famosa d'Italia. Tuttavia, adesso ha deciso di rompere quel silenzio e condividere le sue emozioni. Inizialmente, credeva di incontrare soltanto esperienze positive, ma la realtà ha dimostrato il contrario. Rosie è arrivata alla finale del grande fratello, venendo eliminata solo nel confronto finale con Beatrice e Perla. Il suo percorso ha conquistato il plauso del pubblico, guadagnandosi molte simpatie al di fuori dell'ambito del programma. Tuttavia, Rosie è stata anche bersaglio di critiche e attacchi agghiaccianti. Questo l'ha ferita nel profondo, lasciandola senza voce. Non avrebbe mai previsto di incontrare così tanto odio una volta fuori dalla casa. Ma nonostante le ferite inferte dagli insulti, ha espresso gratitudine per il percorso affrontato e ha deciso di non permettere a nessuno di attenuare la sua determinazione. Rosie si concentra sulle cose positive e non lascia che le critiche ingiuste la abbattano. Ora vi chiediamo, cosa ne pensate della chef Rosie? Chi avrebbe dovuto vincere al grande fratello? Lasciate un like e fatelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i nuovi video. Grazie